Questo è lo scenario che si presenta dopo l'incendio vicino alla loggia di Palazzo. La nostra, come detta, montagna bruciata, adesso è di nuovo bruciata, grazie ai piromani. Sono disperato, è un paesaggio che io non riconosco più. Come potete vedere è completamente distrutto, è completamente distrutto tutto l'incendio che c'è su uno dei monti di Sant'Oro. Ciao, non ci sono parole.